Ciao a tutti! Amici collisionisti e cartoni animati, oggi facciamo la recensione degli EpiMill. Io sono Tedis e lui è Catus. Beh, non abbiamo trovato i peluche di Tedis e Catus, quindi Tedis perde sempre un occhio e Catus è un occhio. Perciò gli sto usando quelli in versione di universi personaggi, ok. Andiamo a vedere una nuova collezione che sempre prevede il futuro, Mr. Epi, Multiversus. Che coppie? L'immaginazione non ha limiti e con Multiversus supera ogni confine. Divertiti con le più stravaganti coppie dei tuoi personaggi preferiti, ora in ogni EpiMill. Avete visto il video di Blade 2? Nella scorsa settimana abbiamo Ceram, Steve Universe e Bugs Bunny, Taz e Batman e Shaggy e Shazam. A me mi sembra un coso a caso, vabbè. E questa settimana scopri le sorprese in ogni EpiMill troverai. Sì, una scatola di alluminio, un foglio di adesivi e un set gioco di carte. In questa settimana abbiamo Velma e Tomegeri. Arlequin e Tomegeri. Io lo volevo, ma Paolo voleva questo. E Finn e Batman. Inquadra il QR code sulla boss del tuo EpiMill. Perché gli unboxing degli EpiMill li facciamo sempre di sera, va bene. Inquadra il QR code della boss del tuo EpiMill. E qua c'è anche la pubblicità che la prima volta compare i personaggi della Cartoon Network, ma in verità qua non compariono i personaggi della Cartoon Network qua. Se sono della Warner Bros, vabbè. Come ogni EpiMill, il McDonald's anticipa sempre di tutto. Anticipa sempre di tutto le sorprese. Quindi non aspettate altro Gioveti Lidl e tanto altro. Qua nella porta c'è Bugs Bunny, Shaggy, Jake e Velma. Quattomegeri, Superman, Steven Universe e Garnet. Lo conosco, Steven Universe, è un bel cartone. Poi Tamesi Digital Circus, è bellissimo. Ma non vedremo i personaggi preferiti, quindi non vediamo. Arlequin e Finn. Batman e Taz. E qua, questa serie completa lo facciamo vedere dopo la sigla, assieme a Mr. Epi. Le collezioni di Paolo Paolini Uv. Seguici su YouTube, Facebook e Instagram. Beh, d'ora in poi non lo registriamo questo sfondo fuori. Ma mi piace così com'è, vabbè. Ciao a tutti amici, sono io, Mr. Epi. Meglio registrarlo in camera, vabbè. Oggi facciamo una recensione di un'uova collezione dell'EpiMill. Ho visto il video di Blade 2, anche se non ha fatto molto successo, non ha fatto mille visualizzazioni. E mille visualizzazioni è la mia specialità. Ah, lo sai Blade 2, ma non ha scritto Happy Meal. Cosa vuoi dire, Mr. Epi? Non ridere con Blade 2, lui ha più mi piace. Sì, più di 15 mi piace, vabbè. Oggi vedremo una nuova serie che è prevista in futuro dalla McDonald's. È caduto 10 centesimi, ok. Una nuova serie di Multiversus. dell'EpiMill. Scusate per le notifiche. La serie completa lo facciamo vedere d'ora in poi dal cellulare. Fotografato in fotografia. Abbiamo questa serie di 12. Di 12 che, sì. Che contengono card, adessivi, eccetera, eccetera. Guarda, c'è il gigante di ferro. Il mio preferito, vabbè. Qua sono tantissimi, tantissimi, tantissimi. Ma in verità sono 14 o 16. Saranno 5 o 6 settimane di Multiversus. Multiversus che copie, scopri le tutte. Abbiamo di tanti mille personaggi e ci saranno 12. Scopriamo le tutte. E c'è anche un libro gioco, ma il libro non si vede in tubo nel McDonald's vicino. Vabbè. Abbiamo... Velma e Superman. Steve Universe e Bugs Bunny. Shaggy e Batman. Wonder Woman e Bugs Bunny. Garnet e Superman. Taz e Harley Quinn. Tom e Jerry e Velma. Shazam... Questo coso... E Taz. Jake e Wonder Woman. Scusate per i rumori. Tom e Jerry e Harley Quinn che c'erano questa settimana. E gli ultimi il gigante di ferro. E... Chi è stottissimo davanti al gigante di ferro? Vabbè. Scrivitci nei commenti qui sotto e... Quello che abbiamo trovato noi. Finn e... Batman. Vero ricordate gli Epi Meal di Sonic della 6 2024? Ogni Epi Meal McDonald's di Sonic non... Non... In Sardegna non c'è mai il boss delle Epi Meal di Sonic. Ma finalmente... Quelli di Multiversus ci sono! Lo... Lo conserviamo così. Ma lo apriamo solo per impostione. Poi quando finisce la serie del... Degli boss delle Epi Meal... Il conservo sempre così. Che non si rovinino il boss delle Epi Meal. In questo boss delle Epi Meal... C'è il logo di Multiversus... Bugs Bunny... E Superman. Speriamo che se farò anche la seconda parte. Perché... Queste serie sono carine... E bellissime. Mi piacciono! Peccato che non ha fatto la Disney. Vabbè. Non le primi di Wish. Adesso... Disney vi è tattato sempre a McDonald's. Peccato, vero? Gioca ora con queste coppie qua. Vabbè. Scegli la tua coppia. Uno. Genitori, scansionate il codice. Due. Selezionate un superpotere insieme ai vostri bibi e scoprite la coppia. Volete... Un gameplay? Nessuno... Ha detto... Nessuno... Di fare un gameplay su questa... Epi Meal gioco. Vabbè. Lo farò e lo chiammerò... Paolo e Lisa. E farò una prima serie ma... Fine febbraio. Vediamo, vediamo se c'è ancora questo gioco. Ecco. Questa è la sorpresa che abbiamo trovato. Multiversus. E c'è anche... HTTPS... Tuoi punti... Barra barra mv. Punto hm. Slash. Curlcode.com. Slash. P. K. G. Scrivetelo e giocate nel vostro cellulare. E dal tablet e ogni le parti. L'Epi Meal è il gioco dei Multiversus. Abbiamo trovato Fine e Batman. Fine lo usiamo negli universi. Bene. Procediamo all'apertura. Come dice Blade 2? Dice che... Lo saluto. Ciao Blade 2. E saluta anche Teddy Seccatus nei tuoi prossimi video. Ok? Va bene. Questo... Bellissimo, bellissimo. Blade 2 dici... Saluti da Teddy Seccatus. Salutali. Anche la assistente Yoshi mi manca. Questa avvolgimento di carta bianca. Tanto non ci siamo in questo video. Verro Cato? Sì. Attento che voli la borsa. Vabbè, faccio errori sempre nei video. Ecco. Qua in ogni regalo potete trovare una bella scatola... Di qualcosa. Di alluminio. Un sacco di errori di Epi, Mr. Epi dopo. Sì. Di acciaio. Abbiamo raffigurato Batman. Ma questo Batman dei Multiversus è brutto brutto. Sembra che è una femmina Batman ma sembra più brutto. Multiversus il logo. E Finn di Adventure Time. Perché al Finn di Adventure Time... Vabbè, lo facciamo così gli universi. Faccio ciao, io sono Finn... È Finn. Bene, apriamo la scatolina. Come dice il nostro amato caro Blade 2, dice che... È come le sorpresine del mulino bianco che contengono tantissime belle sorprese. Allora, Ryan, ne sarebbe piaciuto e impazzito. Ah, qua ci sono le istruzioni bianche. A me sembra la principessa gomma rosa questa. Finn. E a Batman una nuova. Quindi questi sono gli adesivi. Ah, mi sembrava gomma rosa questo. È Finn gommoso verde. Vabbè. L'adessivo verde di Finn. È l'adessivo di Batman. Qua si possono mettere gli adessivi per metterlo nell'acciaio. Quindi, come Blade 2, siamo maniacali e non possiamo altra. Qua contengono questo puzzle. Adesso lo monto. Ci vediamo dopo. Ecco, all'interno di questo abbiamo gli adessivi. La scatolina da alluminio o d'acciaio. Vabbè, quello che dite voi è un puzzle più bello del mondo. Il puzzle di Multiversus Arancione. Dove ci sono i personaggi di... Del 2023 queste sorprese. Tom e Jerry. Sì. Garnet di Steven Universe. Wonder Woman e Taz. Bella Garnet. Sembra Sexy. Questa è una bella sorpresa. Una più bella dell'altra. Adesso richiudiamo tutto. Il boss è pronto per essere esposto. E c'è anche la sorpresa dentro. Bene. Questa è la fantastica sorpresa che abbiamo trovato nell'epimildi Multiversus. Questo è l'ultimo sfondo che faccio all'aria aperta. Quindi, se troviamo un bel spazio... Dello spazio, vabbè. C'è più luce. Quindi, nella stanza di Lorenzo non c'è più luce. Se posso, lo riprovo in bagno. Se faccio la recensione degli epimile, degli ovetti e così vari. Ma abbiamo trovato qualche nel letto come gli ovetti di Spongebob che arriverà nella prossima settimana. Quindi, al nostro amico Mr. Happy. Per oggi è tutto. E ci vediamo al prossimo McDonald's e P-Me. Questo probabilmente sia unico, unico, unico. Bene. Ciao. Le collezioni di Paolo Paoli New. Seguici su YouTube e Facebook. Ah, mi ricordavo. Sono tipo le sorpresine del mulino bianco. L'abbiamo già detto. Quindi, vabbè. Amici, se siete ancora qua, ci saranno, conservo molti soldi e ci sarà molta serie. Davvero, molte serie. Degli ovetti, epimile e tante altre. State aggiornati qui, sulle collezioni di Paolo Paoli New. Grazie a tutti.